Io mi devo sentire altamente credibile e io poco credibile. Da chi? Dalla Procura Federale. La sapete la Procura Federale? I metodi della Procura Federale? Li avete letti? Forse sono passate e non osservate le interviste di Locatelli, di Poloni. A me no. Locatelli e Poloni che dicono? Non abbiamo detto quello che volevano sentirsi dire. Non abbiamo messo dentro nomi importanti per abbassarci la pena. Questo dicono. Agghiacciante è quello che dicono. Agghiacciante è quello che dicono. Però questo non interessa. Ai giustizialisti non interessa questo. Non interessa il modo di fare che ha la Procura. Non interessa quando si parla di patteggiamento. Il patteggiamento è un ricatto. Il patteggiamento è un ricatto che viene fatto purtroppo dai nostri stessi avvocati. Io innocente devo subire dal mio avvocato? Sai, forse, visto questa giustizia che non ci permette di difenderci, di mostrare la tua innocenza, perché dobbiamo rischiare? Patteggiamo. Io innocente. Io e come tantissimi altri perché c'è stata la rincorsa al patteggiamento. Il patteggiamento è un ricatto. Bello e buono, da questa giustizia, è una vergogna. È una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito, tra virgolette, con loro. Perché c'è ancora un altro alpello. Per fortuna è finito con loro. Novara Siena è un'accusa infamante per me. Per qualsiasi allenatore. Ha nominato la mia credibilità nei confronti di uno spogliatoio. Però chi mi ha avuto, i miei calciatori, sanno chi è Antonio Conte. Così come sanno i calciatori della Juventus, chi è Antonio Conte. Non mi ha mai creato problemi. Nonostante le notizie sono uscite durante il campionato. Notizie false. Oggi dico notizie false, l'avevo dicevo prima. Però non potevo dirlo. Un'accusa, un'infamia per l'allenatore che deve essere il leader. Deve trasmettere i valori positivi. Deve trasmettere la vittoria in campo. In cinque anni ho vinto tre scudetti. Uno scudetto. Ho fatto due promozioni. Sono antipatico perché vinco. Non è un problema mio. Io faccio il mio lavoro. Lo faccio al massimo. Chiedendo il massimo prima a me e poi ai calciatori. E alla società. Do fastidio. Non è un problema mio. Novara Siena. Prosciolto. Bello. Prosciolto. Cavolo. L'accusa infamante è caduta. È caduta. Dici che è rimasto. Un'altra partita che durante questi mesi Antonio Conte non l'ha mai pensato nessuno sui giornali. Eh, 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 eh. Sbagliato. Eh. C'è il Binoleffesiena. Dove Conte non poteva non sapere. Io mi sono dovuto far spiegare cinque ore che significa non poteva non sapere degli avvocati. E se mi dite ancora che ho capito che significa non poteva non sapere, io vi dico ho dei dubbi. Non mi sembra di essere un deficiente a questo punto di vista. Cade uno messa denuncia e dici ma sono dieci mesi per due messe denunce. Ne rimane una. Dici cavolo. Ma forse, forse scende la pena. Da dieci va cinque. No, dieci rimane dieci. Ma io dico. Anche qui. Ma. È assurdo. È assurdo. E oggi lo posso dire. È assurdo tutto quello che mi è successo. Il popolo gioventino, non solo, tutti i tifosi devono sapere quello che mi è stato fatto e quello che mi stanno facendo. Perché è una vergogna. È una vergogna. Mi dicono, vi spiego che significa ho messa denuncia. No, perché così ci capiamo, no? Perché se no uno poi dice che scommette, calcio scommesse. Uno dice calcio scommesse, sempre scommesse, scommesse, scommesse qua. Non c'è niente. Non ho mai scommesso libertà. Ho messa denuncia. Ho messa denuncia. Io avrei dovuto. Se vedevo qualcosa avrei dovuto denunciare. Ma se non ho visto niente, io che devo denunciare? Ma mi devo inventare una denuncia? Ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Vi dico sinceramente, dopo questa vicenda, io oggi, 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 per assurdo, dopo questa vicenda, inizio ad avere il timore di andare lì dentro, nello spogliatoio, dove devo essere un leader, e di magari litigare con un calciatore. Il timore e la paura di mandare un calciatore in tribuna, perché un domani che succede? Uno impazzisce, si alza e inizia a denunciare. Tanto questo ha dimostrato la giustizia. La giustizia sportiva oggi ha dimostrato questo. Si è creduto ad uno che si è venduto per tre anni e mezzo le partite, ha venduto lui, la sua famiglia, i suoi compagni. E han creduto a lui. Allora io ho paura. Ho paura. O mi metto una telecamerina qua, in testa, dove giro, devo avere una telecamerina. In modo da avere 24 ore su 24 quello che succede. Altrimenti bisogna avere paura. E dico un'altra cosa ai miei colleghi, ai calciatori. Oggi è successo a me e a tanti altri. Domani può accadere a loro. Non mettiamo la testa sotto la sabbia. Perché sì, intanto, è successo a lui. O è successo a loro, a quelli che sono stati deferiti e incolpati. Può succedere a tutti. E aprite gli occhi. Grazie.